Enzo Filoromo, tecnico della squadra dell'Ionica, 1-1, un pareggio che nel finale poteva essere sbloccato e invece non ci siete riusciti. E' stata una partita condizionata sicuramente dallo svantaggio iniziale, la squadra ha reagito bene e questa era una buona squadra, lo sapevamo, il mister Bianco, ti considera che in Coppa ha pareggiato col tre Castagni che danno come una delle squadre importanti di questo campionato. Quindi partita difficile, i ragazzi hanno affrontato nel giusto modo, abbiamo creato delle occasioni gol noi ma anche loro, potevano fare gol sul fine, su un fallo che l'arbitro di attacco non ha fischiato, le ha dato il vantaggio e potevano andare a fare gol loro. Quindi secondo me i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, quindi io sono contento della prestazione dei ragazzi, è chiaro che poi non sempre ad una buona prestazione corrisponde una vittoria. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Una squadra quella delle nere, il mister Bianco, soprattutto nel reparto avanzato abbastanza forte? Ma è chiaro che sia così, abbiamo detto ripetutamente che questo è un campionato importante, con squadre organizzate, strutturate, con giocatori di categoria superiore, non a caso io l'ho battezzato come promozione B, c'è da aspettarselo che tu settimanalmente ti trovi degli attacchi e dei reparti ben organizzati. I dietro avevano il capitale numero 4, perché era un balovardo insormontabile, in mezzo a campo avevano qualità, avanti avevano due attaccanti come detto Beneduco e si muovevano bene. Quindi una buona squadra sicuramente, che noi con un pizzico di convinzione in più, soprattutto con gli ultimi dieci minuti, quando li abbiamo attaccati bene sugli esterni, con Fazio a sinistra, con Claudio a destra, li abbiamo messi alle corde. Purtroppo non siamo riusciti a trovare la conclusione giusta, però secondo me la squadra nel complesso ha fatto bene. Possiamo dire che queste due partite di campionato per la Ionica sono ancora di rotaggio, la vera Ionica quando la potremo vedere? Diciamo che di rotaggio, perché come ho detto all'inizio stagione, noi siamo una maticola, magari ci hanno messo addosso l'etichetta di squadra importante. Noi sappiamo di avere dei grandi valori all'interno di questo gruppo, però è un gruppo che non deve perdere di vista l'umiltà, non deve perdere di vista la coesione, la compattezza del gruppo, perché se perdiamo di vista questo aspetto allora andremo in difficoltà contro qualsiasi squadra. Io penso che se i ragazzi continuino ad allenarsi con la stessa intensità con cui stiamo allenando in queste settimane, a non farsi abbattere dalla situazione attuale che ci vede un punto in due partite, è chiaro che riusciremo sicuramente a fare bene il possibile del campionato perché secondo me abbiamo le qualità e le caratteristiche di poterlo fare. E soprattutto ci sono tanti giovani che scalpino, oggi si è visto abbastanza bene questo Leo. Ma Leo è una classe 96, anzi in settimana aveva un problemino al dente, che gli ha impedito di allenarsi tutti gli allenamenti, ha fatto un allenamento su tre, però nonostante questo ha fatto bene, tranne in due situazioni, la fase difensiva nel primo tempo che si è fatto bucare alle spalle, doveva essere più bravo nel stringere la diagonale con il reparto difensivo, però è un 96 a grosse immagini di miglioramento, lui come il stesso Sterrantino che purtroppo ancora non lo può utilizzare, o come Carmelo De Luca che ferma i box per un problema di salute, come gli altri ragazzi che sono attualmente nella Juniors, da Salvatore Di Bella a Bercolli a Giandolfo, quindi tutti i ragazzi che secondo me nell'arco della stagione avranno sicuramente la possibilità di poter ben figurare anche in prima squadra. Grazie a tutti!